E' l'esordio in campionato ad Imola questo fine settimana per la San Giovannese che deve riprendersi dal brutto stop subito in Coppa Italia. Le idee di Ginestra sono quelle di dare un maggior tasso di esperienza alla linea mediana che a Montemurlo ha sofferto garantendo copertura insufficiente davanti alla difesa. La prima conferma giunge con il portiere grosso, nessuna scelta verso il giovane Bettoni, cosicché i quattro fuori quota saranno tutti tra gli uomini di movimento. In difesa fermo Pezzati per un problema derivato da incidente automobilistico, nulla di grave ma problema alla schiena per questa settimana. Ecco due classe 97, Piantini e Tariallo, a presidiare le corsie con formato a fianco di Nocentini come centrali. Camellucci a impostare a centrocampo a fianco del capitano Mugelli e Diamabile, 98 della squadra, con davanti rinuncia forzata a questo punto a Napoletano e De Santis, ultimo arrivato preferito a Lischi assieme a Crocetti Vertice e Morbidelli esterno a destra. L'arbitro è De Tommaso di Rieti e novembre 2015 diresse Foligno San Giovannese, vinta dagli azzurri all'ultimo minuto per 3-2.